A Caprese Michelangelo si impone Marida Brogialdi con la lista insieme per Caprese di estrazione civica ma che strizza l'occhio al centro-sinistra. Si tratta del primo sindaco donna, ha ottenuto 559 voti pari all'85,21%, ha superato con una larga maggioranza la sfidante Ginevra Dinelli che ha ottenuto 97 preferenze. Queste le parole della neoeletta. Sono una donna che è ormai in pensione, ha fatto tutto il suo curriculum di lavoro e ora mi sono voluta dedicare a questo servizio nei confronti degli amici con i cittadini. Questo l'ho fatto solo per questo spirito qui. Certo è che i miei cittadini possono venire sempre da me in comune, chiedere e mi sarà data una risposta. Questo sì. Io spero dire che già il vice sindaco è già designato a un acquisti e lui sarà il nuovo vice sindaco, continuerà a fare la veste vice sindaco, gestirà i lavori pubblici come ha sempre lavorato.